Ritorna come ogni settimana Padre Ernesto della Corte, il nostro amico biblista in conversazioni bibliche. Buona Pasqua della settimana Padre Ernesto. Buona Pasqua della settimana a te, ai tecnici, a tutta la gente che ci segue sempre con molta attenzione direi. È vero, è vero, tanti sono anche i messaggi che ci arrivano. Padre Ernesto oggi Luca ci offre una visione differente, non siamo su un monte ma su una zona pianeggiante alla base di una montagna. Sì, in realtà il testo se lo andiamo a guardare un attimino prima, noi oggi leggiamo dal versetto 17 in poi il famoso discorso della pianura, mentre in Matteo è il discorso della montagna. Però Gesù al versetto 12, quindi qualche versetto prima, Luca ci racconta che è salito in montagna e si è messo a pregare per tutta la notte. Il Gesù di Luca è un Gesù che prega sempre, prima di fare qualche segno, prima di chiamare gli discepoli, prima di fare la sua attività. Anche al battesimo, l'abbiamo visto, Gesù stava in preghiera. Quindi direi proprio caratteristica di Luca. Salito sulla montagna a pregare per tutta la notte, quando ne scende, chiama sei discepoli e ne sceglie 12. Quindi prima di questo episodio di oggi bisogna contestualizzarlo. Ha già chiamato i 12, poi scende dal monte in questo luogo pianeggiante e insieme ad essi, insieme a lui, stanno i discepoli che ha chiamato. E poi c'è una grande moltitudine di gente che lo segue, vuole sentire parlare Gesù e Gesù offre a loro una meravigliosa catechesi che noi chiamiamo delle beatitudini. È il cosiddetto discorso su una nuova legge o sul codice di senso delle cose. Rispetto a Matteo, dove noi troviamo otto beatitudini, qui in Luca, forse il testo è più antico di Matteo, forse, inizia con quattro beatitudini e seguite da quattro guai. Che cosa sono innanzitutto le beatitudini? Sono quattro e sono le seguenti. Beati voi poveri, beati voi che ora avete fame, beati voi che ora piangete, beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi mettete al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Ecco le quattro direi molto sintetiche, molto asciutte in Luca rispetto a Matteo. Si dice beati i poveri, Matteo diceva beati i poveri in spirito. Che cosa sono le beatitudini? Sono l'offerta della possibilità di fare della propria vita un'opera d'arte. È davvero interessante tutto questo. Di fare un'opera d'arte. La vita è raggiungere una piena maturità di senso, una piena maturità umana che avviene solo in Gesù Cristo. Quindi noi dovremmo essere esortati da queste vie che sono le beatitudini a vivere lo stile di vita di Gesù. Anche quando bisogna attraversare momenti di dolore, forse anche la morte. La vita è uno scivolamento continuo, è una maturazione verso quella morte che è il passaggio. Per noi credenti dovrebbe valere il discorso che faceva Salomone, questa tenda mortale va disfacendosi ma noi dovremmo maturare verso l'incontro col Signore. Le beatitudini sono delle vie di senso. Se la vita la si accoglie, nonostante tutto, voglio dire, nel bene e nel male, è sempre un dono la vita, anzi il dono più grande. Se noi l'accogliamo e la percorriamo, noi ci umanizziamo. Se ci guardiamo intorno, vediamo che la gente invecchia o matura, secondo il verbo che vogliamo usare, ma non si umanizza. Ricordiamo le parole di un grande padre latino tertulliano, il quale ci ricordava che cristiani si diventa, non si nasce. Le beatitudini ci aprono un futuro che poi raggiungerà il suo compimento solo nel regno di Dio. Certo, sono paradossali perché rispetto ai codici di senso del mondo, dove sono beati i ricchi, sono beati quelli che sono sazi, beati quelli che ridono, beati quelli che perseguitano e non sono perseguitati. Rispetto a questo codice del mondo, sembra effettivamente paradossale. Perché sono paradossali? Nel senso che le beatitudini vanno oltre ogni logica che è puramente umana e mostrano anche il loro aspetto di scandalo, direi. Nel senso di invitarci a accogliere nello scandalo della croce, come diceva il grande San Paolo, maestro del nostro Luca, nello scandalo della croce c'è la logica di Cristo. Proprio il primo capitolo della lettera ai Corinzi ce lo ricorda. Quando siamo deboli, allora siamo forti. Perché? Perché ci raggiunge la grazia del Signore. Nel primo volume che scrisse Papa Ratzinger, da Benedetto sedicesimo, ha scritto tre volumi su Gesù che sono veramente deliziosi, nel primo volume proprio, Benedetto diceva così, senza un morire, senza il naufragio di ciò che è soltanto nostro, non c'è comunione con Dio, non c'è redenzione. Cioè, vuole dire, il grande Ratzinger, vuole dire che la vita è un morire continuo per cercare comunione con Dio. Se non muore il nostro io, la nostra disumanizzazione, il nostro possesso, noi non ci umanizziamo. Allora si invecchia, ma non si matura. È purtroppo l'esperienza che possono fare molti di noi. Se non si comprende la logica di Gesù, allora il linguaggio delle beatitudini non solo è difficile, ma resta misterioso. Perché spesso noi uomini abbiamo altri codici di senso. Ad esempio, parliamo di felicità. Ma la felicità, lo ribadisco sempre, non è un concetto cristiano. La mia felicità può essere causa di dolore per gli altri. Noi cristiani piuttosto parliamo di condivisione nell'amore. Ciò che fa bene al fratello fa bene anche a me. Ognuno di noi non deve essere caino verso a bene, ma deve condividere col fratello. Perché questa è la vita, lo stare insieme. Il registro del noi, purtroppo, è molto scadente nei nostri tempi. D'altra parte, le beatitudini, dobbiamo dirlo alle nostre amiche e ai nostri amici che ci seguono, iniziano con un termine greco, anche in Matteo, makarios, che però ricorda l'ebraico ascire, è una parola molto forte, ascire, parola che deriva dal verbo asciar, che significa andare avanti, avanzare, quasi a voler dire che le beatitudini sono una via di senso alla nostra vita. È quasi un grido che ci dice sia il Salmo 1, come tanti altri salmi dove si usa, si parla di macarismi, cioè di parole, di termini, di salmi, di testi dove si usa spesso questo termine. Potremmo quasi tradurlo avanti, vai avanti, perché solo chi ha convinzioni riesce a trovare un senso, non solo al vivere, ma anche al morire, al dolore. E Gesù incarna tutte le beatitudini, perché Gesù è stato povero e con la sua povertà ha arricchito molti, ha avuto fame di giustizia, ha pianto sulla durezza degli uomini, è stato odiato e perseguitato, ma lui ha donato la sua vita sulla croce. Il regno è stato donato proprio ai poveri. In quel famoso discorso della sinagoga di Nazareth che abbiamo visto, Gesù ha parlato proprio per i poveri, per quelli che hanno fame, per quelli che piangono, per i prigionieri. E poi lui si è offerto a chiunque abbia sofferto persecuzione, lo dice, a causa del figlio dell'uomo, quindi di Cristo Signore. E poi, oltre le beatitudini, la pagina di Matteo mette dei guai. Ma qui dobbiamo dire ai nostri amici e alle nostre amiche, attenzione perché quel guai non va vista come una sorta di maledizione. Noi usiamo questa espressione per maledire o per dire cose brutte a qualcuno. In realtà i guai sono degli avvertimenti, avvertimenti ai ricchi, ai sazi, a chi ride, a chi ora si accontenta degli applausi degli uomini. Ecco, guai a voi, state attenti. Se tu poggi la tua vita sulla ricchezza, sulla sazietà, sul ridere, sull'accontentarti degli applausi da parte della gente, tu non aderisci a Cristo, non maturi, invecchi pensando di essere un leader, ma in realtà non ti umanizzi. Quello che è importante è la conversione nella propria vita, il cambiamento di mentalità. Come è difficile cambiare il nostro modo di pensare. Quanto è dura la nostra testa, a tal punto che il Nuovo Testamento parla di una malattia che è terribile, la sclerocardia, il cuore duro, chiuso a qualunque scelta. Allora oggi noi siamo messi davanti a una scelta. O si accolgono i doni di Dio e si condividono, perché i doni non possono mai essere posseduti, ma solo accolti e donati, e perciò dobbiamo perderli, perché si perde il richiamo a colui che li dona. Chi è veramente mio per oggi nella vita? Chi accumula? Proprio perché perde il senso della vita, delle realtà create e sfocia nell'idolatria, pensando che i beni possano migliorare la propria vita. È giusto che ognuno di noi aspiri a una vita dignitosa, serena, ma quando abbiamo perso il senso, nei soldi, nel potere, nel successo, nel carrierismo, potranno darci. Ecco perché la pagina di oggi resta davvero un grande interrogativo, una interpellanza molto bella. Ecco perché anche Geremio nel capitolo 17 ci dirà, benedetto l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida in sé stessa. Il Salmo 1 ce lo ricorderà oggi e Paolo, nella lettera ai corinzi, ci ricorderà che abbiamo avuto speranza in Cristo. Ecco, Cristo è davvero per noi il punto di riferimento. Il contrasto tra l'uomo maledetto e quello benedetto è proprio formulato a partire dalla fiducia. In che cosa tu poni la tua fiducia? In Dio, nei beni che il Vangelo ci offre, oppure in quello che è il tuo carrierismo, il tuo potere, il tuo possesso? È quello che il Salmo 1 oggi ci ricorderà. E allora meditiamolo perché ognuno di noi possa fare la scelta di cambiare strategia, di cambiare modo di pensare per umaneggiarci sempre di più. Bello tutto padre Ernesto, bella anche la differenza tra l'invecchiare e il maturare. Molta gente invecchia ma non matura. È come un vino che pur passando il tempo invece di migliorare diventa aceto e purtroppo non è buono. Spesso direi che noi non accettiamo questo scivolare della vita. La vita è uno scivolamento nella maturità, ovviamente che porta anche un peso. Certo ogni epoca ha la sua bellezza e anche la sua immaturità, ma se riusciamo ad attraversarla tutta la vita, a qualunque età, in qualunque condizioni, ma trovando il senso della vita, ecco il messaggio delle beatitudini, noi ci umanizziamo e l'umanizzazione è santificazione. Bene, continueremo a riflettere su questa pagina del Vangelo grazie a te padre Ernesto e ti ritroviamo la prossima settimana. Buona Pasqua della settimana e shalom a tutti voi. Shalom. Shalom.